Derby Toscano Amaro per le ragazze Amaranto che escono sconfitte dalla sfida di alta classifica contro il Filecchio nella decima giornata di campionato di Serie C. Partita subito vivace dai primissimi minuti di gara con il pressing alto delle padrone di casa che non lasciano ragionare le Amaranto. La prima vera occasione però capita per le ragazze di Mister Bonci con Razzolini che trova una bella chiusura di Marchetti. Sulla respinta Ceccarelli non trova però la porta. L'Arezzo prende ritmo e con Ishi ha una nuova occasione per passare in vantaggio. La conclusione finisce di poco a lato. Il Filecchio si porta avanti e con Dilupo trova la prima occasione. Il tiro non trova lo specchio. Al 32esimo sono le padrone di casa passare in vantaggio con Lehmann che dietro l'aria gira in porta un cross dalla destra che si infila nell'angolino. Passano pochi minuti e Fenili viene ipnotizzata da Valcimighi che grazie anche al palo evita il raddoppio del Filecchio. La numero uno Amaranto si ripete poco dopo sempre su una conclusione di Fenili. Nella ripresa il Filecchio subito pericoloso con un colpo di testa di Fenili che si stampa sulla traversa. Ma al 59esimo la numero 11 non sbagliere e spinge in porta un tiro di Dilupo finito sulla traversa. Al 73esimo Filecchio vicino al terzo gol con Siegris ma la palla finisce ancora sulla traversa. Le ragazze Amaranto non riescono a rientrare in partite e perdono la loro seconda partita stagionale. L'Arezzo con questo KO scivola al terzo posto in classifica proprio in favore del Filecchio che si piazza dietro il Bologna che ottiene la decima vittoria in altrettante partite. Le ragazze Amaranto la prossima domenica sfideranno proprio la capolista Bologna nell'ultimo turno del girone di andata.